la soluzione si può trovare quindi avere un pochino anche l'educazione io lo sto facendo con i miei studenti futuri ingegneri al Politecnico guardate che le difficoltà ci sono ma ci sono anche i modi per risolvere questo anche, secondo me già molto sta facendo l'inclusione scolastica il fatto che nelle classi scolastiche di ogni ordine di classe ci sia magari persone o bambini con tirabilità diverse e fanno comunque parte della classe anche lì è comunque un elemento che la nostra generazione non ha avuto perché quando noi eravamo a scuola non c'era ancora dei progetti di integrazione così avanzati quindi l'esperienza diretta che abbiamo avuto ma oggi tanti bambini hanno e quindi se riuscissimo a condire non solamente l'aspetto relazionale ma anche l'aspetto tecnologico quindi come che quel bambino riesce a giocare insieme a noi probabilmente è un elemento che si propaga probabilmente da cose di questo genere piensa che di talo